Lorenzo Flaerti, molto noto della televisione, per aver interpretato la serie televisione in Riss, cosa fa adesso di bello? Adesso sto dedicando un po' al teatro e poi ci saranno anche altre fiction in futuro e sicuramente vedrete nel periodo, il prossimo turno diciamo. Sempre Riss? No, sempre Riss no, altre cose, speriamo un giorno però di poter fare anche una nuova versione di Riss, una nuova stagione di Riss. Insomma la rivedremo in televisione? Assolutamente sì, assolutamente. Cosa è che lo lega a Cagliari, oltre che la moglie che sappiamo benissimo che è cagliaritana? Beh Cagliari oramai per chi mi conosce sa che c'è un affetto vero profondo che mi lega a Cagliari oramai da tanti anni, frequento Cagliari tantissimi anni e devo dire insomma io sono nato a Roma però mi sento anche un po' a Cagliaritana. Come ha scoperto Cagliari? L'ho scoperta tramite mia moglie, tramite mia moglie io conoscevo diciamo le zone dove venivo più sfruttate a livello turistico insomma la parte del nord e invece con mia moglie ho scoperto una bellissima città, un'altra bellissima area e devo dire con una qualità di vita molto alta e una splendida città. Quindi viene spesso a Cagliari? Assolutamente sì. E oggi come a Sida? Vesso che è un amico personale di Pier Giorgio? Assolutamente sì, questo è un contributo che io do a Pier Giorgio, credo che Pier Giorgio è una persona straordinaria, è un grande amico e un grande professionista, una persona che ha sempre ottenuto grandi risultati. Credo molto insomma anche nel programma di Pier Giorgio che lo trovo un programma veramente innovativo ed anche come progetto politico insomma con le sue liste civiche, insomma credo che sia veramente un qualcosa di innovativo e sono molto curioso e contento anche di questo. La ringrazio e tanti auguri per la sua carriera. Grazie e un bacio a Cagliari.